Giamborno ragazzi, pochi cazzi e benvenuti a questo nuovo video Roma che finalmente vince e torna terza Ah è vero, scusa delle spalle Vince ma finalmente convince anche due vettori di fila Vediamo se questa volta ce la facciamo a farne tre Ma sarà tosta perché a Milano e a Milano avranno voglia di vincere Da tutti questi cazzi in faccia che sta prendendo ripenutamente Roma che vince, Dumbia fa un gol stratosferico A me mi è piaciuto tanto tanto È vero che è andato tutto da un errore, un errore difensivo Però riesce a fare un movimento assurdo, conquista il pallone Si smarca davanti a un giocatore e la va a mettere nell'angolino Cosa che un destro o un giocatore qualsiasi attaccante aveva avuto negli ultimi anni Non sarebbe mai riuscito a farlo Continuo a dire che Dumbia è un gran giocatore Lo era in Russia, lo sei in Russia Fai tre gol al Manchester City pranto del ritorno Lo sei anche in Italia, devi solo aspettare ed ambientarti I tifosi rumanisti sono dei cacacazzi Non hanno mai tempo di fare niente Né di aspettare né di niente Quindi Dumbia come vi dicevo finalmente si è sbloccato Ora per me questa è la mia opinione Poi può essere pure che da oggi Dumbia non segnava tipo 8 mesi Però può essere pure che continui a segnare tutte le partite E lo prendendo nel culo come vi dico da circa gennaio Questo è il tridente giusto l'abbiamo capito I barbo Dumbia a Gervinio Anche se Gervinio veramente non fa mai un cazzo Si vede che si trovano bene perché c'è a fine tratta tra tre franco africani lì E quindi bisogna sempre mettere quei tre lì davanti Si gioca bene così Florenzi mamma mia che ha fatto Florenzi Mamma mia cioè 60 metri palla al piede e destro sotto l'incrocio Cioè una cosa ragazzi fantastica Fantastica Da goal collection di Sky Madonna che goal Roma che quindi prende questi tre punti Abbiamo fatto il sorpasso E il sorpasso Cioè magari Ora aspettiamo che vengiate a parlare Perché comunque ci sta un conto sul passo Ora aspettiamo Il conto sul passo l'altro l'abbiamo fatto noi Però aspettiamo perché dobbiamo sempre tenere d'occhio Con la cosa dell'occhio la Lazio Perché comunque mancano quattro partite Quattro partite fondamentali Che è la cosa che la penultima è il derby Quindi non demordiamo Cerchiamo di vincere più partite possibili Adesso abbiamo anche un vantaggio Che è tosta Ma se le vinci tutte Difficile Ma se le vinci tutte Sei secondo Quindi ragazzi Mettiamoci sotto Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace Se non vi è piaciuto E vi ho fatto cacare Lasciate un non mi piace Quindi io vi saluto Andiamo a prendere questa vittoria a Milano Che ripeto sarà tosta Ma non è impossibile se si gioca da Roma Buasciano alla live Ci vediamo ad un prossimo video I'm the Trumpster motherfucker I'm the Trumpster motherfucker I'm the Trumpster motherfucker